Il sindaco di Biceglie Francesco Spina ha inviato una nota anche alla Procura della Repubblica di Trani questa mattina in merito al servizio televisivo che striscia la notizia attraverso il suo corrispondente pugliese in arte Pinuccio sta realizzando sull'appalto per il servizio di rilevazione automatica delle infrazioni al codice della strada. Secondo striscia la notizia per partecipare alla gara d'appalto la ditta Italtraf l'unica a partecipare avrebbe prodotto una referenza bancaria falsa. Le anticipazioni su questo servizio non ancora andato in onda le ha fornite proprio il sindaco Spina che ha registrato l'intervista che l'attore Pinuccio gli stava realizzando e l'ha pubblicata sul suo profilo Facebook. Peraltro sostenendo che il servizio possa essere stato in qualche modo suggerito dall'onorevole Boccia che siede anche in Consiglio Comunale proprio a Biceglie e che insieme ad altri consiglieri comunali aveva chiesto chiarimenti su questa fideiussione falsa. Nella nota diramata oggi Spina auspica un accertamento in tempi brevi da parte della Procura della Repubblica di Trani che indaga sulla vicenda che risale a circa due anni fa. Spina che si dice completamente estraneo alla vicenda preannuncia che al termine delle indagini convocherà la giunta municipale per costituire il comune parte lesa nei procedimenti contro i responsabili ma aggiunge anche che chiederà la violazione della privacy. Nella nota inviata alla Procura infatti Spina scrive che nel corso dell'intervista il comico esibiva un documento definito una falsa referenza bancaria. Insomma Spina rilancia e fa sapere che il ricavato delle azioni risarcitorie sarà destinato a progetti di carattere sociale.